L'Università svolge un ruolo importante in questo caso perché? Perché in realtà è l'elemento coagulante di una diversità di interessi che è riuscita a mettere insieme sul discorso di fondare una piattaforma che possa essere utile alle imprese campane, ma non solo, che sono intenzionate ad affrontare il mercato internazionale, nello specifico la Cina. L'Università Partenope in questo ha già una sua esperienza di moltissimi anni, io in primis ho appunto una conoscenza del mercato cinese per averci lavorato ma per averci anche vissuto e quindi può offrire quel bagaglio di conoscenze che saranno sicuramente utili alle imprese, alle imprese piccole e medie imprese che vogliono affrontare questo mercato.